Elezioni regionali in Puglia, occupiamoci del pianeta sanità. Ne parliamo con il dottor Francesco Turco, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Il dottor Turco è un medico e proprio nei suoi manifesti campeggia la scritta per una sanità migliore. Tanti deficit che presenta il nostro sistema sanitario. Analizziamoli. Per una sanità migliore è stata la motivazione principale della scelta di candidarmi alle regionali del 20 e del 21 di settembre. La sanità va sicuramente messa a posto. Messa a posto perché oggi c'è un'alimentazione generale dal punto di vista sanitario. Per accedere ad una cura deve fare un salto mortale. Aggravata da questa situazione del Covid. Oggi la gente si vede rimandare visite prenotate nel 2019. Per cui bisogna mettere mano. Nella sanità il problema principale che io ravvedo è quello del personale in questo momento. Perché prendere una macchina che debba lavorare solo sei ore, mi spiega una risonanza magnetica, una TAC, è uno spreco anche di denaro se non si fa lavorare. Per cui bisogna agire sul personale medico, infermieristica, ausiliario. E questa carenza porta alle chiusure. Oggi la gente che lavora in ospedale, i medici specialmente, hanno raggiunto un tale stress da lavoro che si stanno licenziando. Nel mio ospedale due radiologi si sono licenziati, anche a Taranto, a qualche anestesista, qualche ortopedico. Vanno a lavorare nel privato che li tutela un po' anche da un punto di vista dello stress e della qualità del lavoro. Perché uno può sopportare un anno o due ma poi cede e si sposta. La sanità pugliese va sistemata in che modo? Ripensando il sistema 118, ripensando il sistema del decreto 70. Il decreto 70 con la riligualizzazione ospedaliera è stato messo a terra da questo problema del Covid. Ha certificato il fallimento del decreto 70. Nella zona orientale abbiamo due ospedali, avevamo due ospedali perché l'ospedale di Grottaglia era un'eccellenza. Adesso è un plesso, anche nel nuovo riordino, è un plesso dell'ospedale di Taranto. L'ospedale di Manduria, che era un primo livello e ha le qualità per essere un primo livello, è un ospedale di base. Nella zona orientale bisogna riportare Manduria a un primo livello, riaprire l'ospedale di Grottaglia, dare una mano forte all'ospedale di Taranto perché l'ospedale di Taranto è oggi grava di una situazione che viene l'urgenza di tutta la provincia. Quello di Martina Franca e quello di Castellaneta gli hanno dato un taglio giusto. È un primo livello e devono continuare ad essere un primo livello. Ecco, dottor Turco, vorrei affrontare ora la situazione relativa all'emergenza Covid. Come è stata gestita, a suo modo di vedere? Allora, l'emergenza Covid, noi abbiamo avuto la fortuna che è arrivato da noi dopo che è esploso nel nord dell'Italia. Ci ha dato il tempo di organizzarci, ma abbiamo avuto un'organizzazione fai da te. Ognuno nei vari ospedali si è dato un'organizzazione per contrastare. Nelle strutture di medicina d'urgenza e pronto soccorso si è fatto un doppio percorso, ma si è fatto un doppio percorso con pochissimi operatori sanitari, pochissimi. Attualmente ancora c'è il doppio percorso. Nel mio ospedale e precisamente nel mio reparto, in questo momento, nel mese di settembre, è solo presente un medico di notte. Lei pensa che con un medico possa fare un doppio percorso? O lo togliamo a metà, oppure è pura fantasia. Per cui abbiamo avuto problemi anche sull'approvvigionamento di DPI, di sistemi di sicurezza individuale. Tutto sommato però ha retto il sistema perché abbiamo fatto di necessità virtù e abbiamo preso le cose buone che erano state fatte precedentemente in altre regioni. La fortuna è che ci ha sfiorato, perché questo dobbiamo dire, il Covid a noi ci ha sfiorato, non ci ha colpito. Io però dovrei dare anche un messaggio di tranquillità e speranza. Tutto quello che si dice è vero, ma non possiamo oggi pensare che non si debba agire su tutte le altre patologie in funzione del Covid. Entrare in un ospedale è difficilissimo, prenotare una visita è difficilissimo. Oggi non è che si scomparse di botta tutta l'altra patologia del solo Covid, per cui senza personale non si può combattere le due situazioni.